salve a tutti e benvenuti nel rifugio appuntamento oggi con un video recupero particolare un video recupero di alcuni volumi di una serie vecchia sapete quanto io ami i classici disney terza serie tra virgolette la terza serie quella attuale di panini comics con il ritorno delle storie di intermezzo delle appunto frame story con il prologo e l'epilogo ma dovete sapere che questa nuova serie edita da panini in realtà è un proseguo della seconda se voi andate su index potrete vedere come la continuazione dei numeri continua con con appunto i nuovi numeri della serie panini infatti se noi ne prendiamo uno a caso ecco possiamo prendere questo numero l'ultimo il 30 possiamo notare come sulla costina vi è scritto il numero 30 ma sul retro abbiamo scritto i classici disney numero 540 eccolo qua quindi ragazzi ho fatto questo recupero di alcuni numeri vecchi della seconda serie dei classici disney dovete sapere che la prima serie la prima storica serie usciva anche senza numerazione fino a un determinato numero usciva senza numerazione per poi essere ristampata quasi purtroppo integralmente nella seconda e con la numerazione solo i numeri dispari ragazzi ma bando alle ciance andiamo giù nel rifugio a vedere cosa ho recuperato ed eccoci qui nel rifugio nel rifugio sotterraneo potremmo dire e siamo pronti per questo video recupero ragazzi adesso allestiamo un po la videocamera in maniera semi professionale e andiamo a vedere cosa c'è all'interno di questo pacco e potrete già vedere un'anteprima succulenta eccoci qua ragazzi pronti per questo recupero non farò un ordine cronologico delle uscite ma in base a come sono all'interno della scatola inizierei subito da questo numero allerta paperino stiamo parlando dei classici disney questa è la seconda serie e vediamo sulla costina scritti dei classici di walt disney numero due a differenza della prima serie che vi mostro subito questo è un numero della prima serie paperino il grande possiamo vedere che sulla costina della prima serie non veniva scritto i classici disney praticamente nemmeno il numero ma solamente il titolo del volumetto che ricordiamo la peculiarità dei classici disney era quella di inserire un prologo delle tavole di raccordo un epilogo per far sì che tutto il volumetto sembrasse un unico grande romanzo a fumetti invece la seconda serie possiamo vedere che ha presente la scritta i classici di walt disney e la numerazione e un'altra peculiarità è che praticamente i numeri adesso se non mi ricordo male pari della seconda serie sono le ristampe dei numeri della prima serie siamo arrivati oppure dispori viceversa adesso non mi ricordo bene comunque ve lo scriverò in sovrimpressione a differenza invece di diciamo appunto dei vecchi numeri e questa numerazione questa ristampa continuerà fino più o meno al numero 50 e qualcosa ve lo scriverò sempre qui in in sovrimpressione ma vediamo questo allerta paperino che è un numero questo degli anni 70 perché sappiamo che la prima serie era degli anni 60 la seconda del 70 questa del 77 numero 2 e vediamo che all'interno sono presenti le storie paperino e il losco inghippo della mappa zio paperone la via dell'oro paperino il tesoro di paperomagno paperino la norma delle regole paperino l'avventura sottomarina quindi la storia d'esordio di reginella vediamo e paperino è la macchina dell'eroismo e vediamo che inizia con un prologo ho voluto fare questo recupero ragazzi perché perché come sapete sto collezionando i classici disney terza serie ecco comunedetta terza serie anche se in realtà è un continuo della seconda perché ripropongono la struttura dei vecchi classici disney ovvero con il prologo le pilo con le tavole di raccordo inedite e quindi ho voluto recuperare questi questi volumi perché hanno questa cosa in più ovvero le tavole inedite paperino il tesoro di paperomagno questo è il ciclo paperingio davvero molto bello e poi vediamo l'avventura di reginella dovrebbe arrivare a breve vediamo qui vediamo sempre l'alternanza delle pagine in bianco e nero a colore ecco qua l'avventura sottomarina questo è vediamo anche qui l'alternanza delle tavole in bianco e nero con l'esordio di reginella guardate questa è reginella davvero molto bella comunque proseguiamo direi di proseguire perché ce ne sono ancora di numeri da vedere andiamo dopo allerta paperino topolino il grande c'è stato anche paperino il grande se non sbaglio questo è il numero 4 della seconda serie e all'interno abbiamo vediamo un po il sommario topolino è il colpo a madera topolino è l'avventura del pesce robot topolino la valigia diplomatica topolino le rapine al gelo topolino la caccia al pirata topolino e il cerco quindi per gli amanti dei topi un volumetto dedicato tutto tutto al nostro topolino davvero molto molto bella molto particolare come raccolta qui abbiamo pure i punti del topolino club e abbiamo anche un bel disegno alla fine che sarà di luciano gatto forse molto bello molto particolare proseguiamo poi con il miliardo classici disney numero 5 e qui la peculiarità appunto era che nei numeri pari o dispari a seconda della versione corretta ecco che non mi ricordo c'era la ristampa appunto della prima serie mentre appunto l'altra numerazione proseguiva con le inedite quindi faccio una ricerca a volo così ve lo dico ve lo dico subito eccoci qui praticamente ragazzi è come come avevo detto però sui numeri dispari ecco i numeri dispari fino al numero 67 ristampava la prima serie quindi il miliardo è una ristampa mentre quelli che abbiamo visto prima all'erta paperino e topolino il grande che sono numeri pari sono inedite quindi fino al 67 noi avremo le ristampe della prima storica serie che ormai ha raggiunto delle cifre assorde almeno per quanto riguarda i volumi messi in ottime condizioni mentre quelli più rovinati ecco si possono trovare a prezzi più abbordabili quindi se uno comunque vuole avere tutte le storie tutte le tavole di raccordo inedite dei classici disney non serve recuperare la prima serie o almeno fino a 67 perché comunque poi abbiamo altri altri numeri perché se noi facciamo 67 diviso 2 questa è una cosa da fare perché i numeri della prima serie erano 58 se noi facciamo 67 diviso 2 viene 33 praticamente quindi ci mancano altri un'altra ventina di numeri ecco quasi un'altra trentina di numeri e quindi lì dovremo recuperarli nella prima serie vediamo qui le storie zio paperone il giubileo del fantastiglione paperone il tesoro sotto zero paperone pesca lo schiriglione bellissimo paperone è la città dei tetti d'oro paperone è il re serpente quindi qua abbiamo un sacco di storie avventurose con protagonista lo zio paperone bello molto bello anche questo proseguiamo ragazzi proseguiamo con numero 6 paperoniana ecco questo appunto è un'inedita qui vediamo zio paperone è la claustromania zio paperone va alla guerra zio paperone il regno dell'oro zio paperone bevitore di petrolio e così via questo è un altro numero dedicato tutto a zio paperone ecco sia il numero 5 numero 6 ecco questa è una scelta un po' particolare qui vediamo il numero 8 anche questo inedito anche questo dedicato allo zio paperone fantastigliarti si tutte storie inutile che ve le elenco tutte quante mettete pausa se avete interesse da citare zio paperone la spada di damocle davvero molto bella zio paperone il tesoro d'atlantide anche davvero meritevole come come storia proseguiamo ancora ragazzi vediamo che numeri prendere e direi di continuare da qui sì con il numero 14 questi poi cercherò di imbustarli tutti paperino dice l'ode anche questo un inedito il mio obiettivo è di recuperare tutti i classici disney con le storie di intermezzo le storie di raccordo quando arriveremo diciamo ai numeri senza le storie intermezzo ecco non li prenderò più e qui abbiamo delle storie con protagonista ovviamente paperino vediamo il sommario anche sommario comunque molto diciamo spartano ecco non ci sono scritti ancora gli autori il numero 16 paperone super magic vediamo quanti numeri dedicati allo zio paperone qui vediamo le varie storie e qui sempre vediamo l'alternanza sempre del colore al bianco e nero quindi per gli amanti delle tavole in originale in bianco e nero questa è una serie da avere serie da avere anche per chi non vuole recuperare tutti i vecchi numeri di topolino antecedente almeno al 600 anche se qui abbiamo storie che sicuramente io possiedo già vediamo topolino reporter sicuramente storie per la maggior parte che ci sono già dal topolino 600 in poi però alcuni numeri avevano all'interno storie uscite sui topolino antecedenti alla fascia 600 e quindi a me quelle storie interessano perché come sapete il mio obiettivo è quello di avere dal 600 in poi di topolino e i numeri antecedenti non mi interessa averli paperone special per questioni prettamente economiche ve lo dico tranquillamente numero 20 andiamo avanti ecco questo ragazzi questo è una ristampa ecco il super giallo di topolino questo è il numero 21 che ovviamente aveva era senza numerazione nella prima stampa topolino la dimensione delta topolino e l'unghia di calia topolino e il tesoro degli aztechi topolino il pippo tarzan io questo ecco qui purtroppo manca il bollino però è stato ritagliato in maniera sapiente anche se ha rovinato un po il disegno e questo volumetto io ce l'ho anche in ristampa di pregio cartonata con l'edizione in box in legno che in realtà vorrei vendere perché mi occupa troppo spazio e quindi preferisco tenermi quella lì ecco proseguiamo poi con il numero 22 paperologia questo è un numero dedicato sempre ai paperi abbiamo zio paperone l'operazione galeone zio paperone l'antimonetario paperino spia insomma abbiamo quindi un mix di storie tra zio paperone e paperino insomma storie con tutti i paperi alcuni sono in buonissime condizioni altri no numero 23 paper show questo appunto è dispari quindi ristampa la prima la prima serie e si riconosce anche dal sommario ecco ragazzi notate il sommario ha uno stile più vintage il sommario della numerazione dispari proprio perché è una ristampa identica del volume appunto della prima serie mentre il sommario della seconda serie è più tra virgolette moderno paperino è l'uomo di hula hula ragazzi mamma mia che storie che storie paper show qui abbiamo il prologo e poi abbiamo l'inizio della storia ecco qua che inizia qui quindi vedete quante belle pagine di prologo solo che io adesso non mi ricordo se effettivamente c'era c'erano anche le tavole di raccordo oltre al prologo io penso di sì non mi ricordo bene però se noi andiamo avanti fino alla fine della storia ecco vediamo che no in questo caso no ragazzi perché la storia finisce qui ovviamente viene diciamo tolta la fine ecco la parola fine in ogni in ogni fine di storia guardate anche se eppure no secondo me no c'è la tavola di raccordo perché lo stile di disegno è diverso qui abbiamo picco dei paperi come protagonista di tutte le tavole di raccordo quindi ci sono ci sono ragazzi non c'era solo il prologo e l'epilogo proseguiamo poi ancora con il numero 24 topolino e minni quindi storie con protagonisti topolino e minni e guardate che bello voi volete leggervi delle storie a tema pensate oggi voglio leggermi le storie dedicate a topolino e minni in coppia vi prendete questo volumetto e ve lo leggete era davvero una cosa diciamo riuscita una mossa di marketing qui topolinissimo numero 25 dorato questo quindi è una ristampa e lo si vede appunto dal sommario proseguiamo ancora con il numero 26 paperone sei forte insomma ce ne sono diversi ragazzi ce ne sono diversi di numeri e proseguiamo ancora con i numeri vediamo di andare con un certo ordine infatti qua già mi era sfuggito qualcosa con il numero 9 i classici moderni vediamo topolino che acchiappa con un retino macchianera qui abbiamo sempre le ristampe topolino è il doppio segreto di macchianera bellissimo topolino è il terrore dei mari lo spettro fallito e i grilli atomici queste poi le devo tutte smarcare queste numerazioni poi abbiamo topolino detective questo pure molto molto bello ovviamente le storie saranno tutte incentrate sui casi del topolino abbiamo topolino a tigre col fiocco topolino lipersonico super con un uomo insomma e così via proseguiamo proseguiamo numero 11 super paperissimo questa appunto è una ristampa anche se qui il sommario è moderno stranamente c'è paperino è una leggenda dello scozzese volante wow ragazzi poi voglio linkarvi in descrizione un articolo del paper sera il mitico forum del paper sera dedicato proprio ai classici disney seconda serie dove vi sono scritte un bel po' di curiosità che comunque adesso vi andrò ad elencare anch'io paperinic contro paperinica numero 12 molto bello con protagonisti anche la versione femminile e qui abbiamo proprio la storia d'esordio di paperinica il filo da rihanna paperinica contro paperinic paperinic la bella addormentata paperinic il castello delle tre torri storia entrata in auge di recente proprio grazie al seguito spirituale fatto da marco gervasio e grazie al cartonato che sta per uscire in questi giorni in queste settimane in ericola e in fumetteria anzi se non sbaglio è già uscito al momento l'uscita di questo video e vi avevo detto che la seconda serie ristampava solo qui abbiamo intanto i gialli di paperino che scimmietta i gialli di topolino molto molto bello vi avevo detto ripeto che la prima serie arrivava ai primi 58 numeri ecco la ristampa invece non è così in realtà la prima serie consta di 71 numeri e sulla seconda serie sono state ristampate fino al numero 67 sui numeri dispari quindi praticamente mancheranno 38 numeri della prima serie e poi c'è un'altra peculiarità che andremo a vedere a brevissimo proseguiamo vediamo un po' quali numeri con il numero 31 paperoscope qui abbiamo sempre paperino il paladino il cavalieri delle slitte volanti paperin temucin wow questo è un volumetto da avere assolutamente storie molto molto belle e proseguiamo ancora con il numero 32 pluri paperone carino anche questo sempre con i prologhi e ragazzi i prologhi ecco qui e lo iniziamo a dire dai qui vediamo arcito polino numero 33 andiamo avanti un po' perché altrimenti il video durerà un'infinità paper parade vediamo i sommari continuiamo continuiamo numero 35 tutto paperino ecco si vede che è una ristampa paperino la farfalla di colombo paperino le conchiglie zebrate il fantasma conteso paperino anno 2001 e ormai è un po' andato come anno è passato anche il 2001 topolino vip numero 36 vediamo il sommario topolino la macchina sogni d'oro abbiamo insomma varie selezioni di storie che dovrebbero essere le storie più belle ecco uscite su topolino zio paperone maxi manager numero 38 comunque le copertine sono tutte molto belle proseguiamo con numero 39 topo show e qui possiamo notare anche delle differenze guardate il 38 che è il numero inedito ha la scritta walt disney moderna il 39 che è una ristampa del vecchio numero in diciamo quasi anastatica possiamo vedere presenta la scritta walt disney vecchia e qui vediamo anche il sommario che è vecchio molto vecchio topolino imperatore della calidonia wow andiamo andiamo avanti con il numero 40 paperino bla 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 questi aprono abbastanza bene questi volumi vediamo il sommario guardate che belli poi tutti i disegni che fanno parte dei vari sommari molto molto belle queste raffigurazioni proseguiamo con il numero 41 il trilione e anche qui vediamo la scritta walt disney vecchia eccoci qua andiamo avanti ancora con il numero 42 topolino zoom andiamo avanti ragazzi perché qui c'è da vederne ancora numero 43 paperino bang strano come titolo ed è una ristampa proseguiamo con il numero 44 paperin sansone adesso dovrò fare spazio qui nel rifugio visto che mi fermerò dall'acquistare i numeri di paperin nick fino al numero 100 penso che poi me li porterò in puglia tutti i numeri di paperin nick e qui mi lascerò i classici molto probabilmente farò proprio così qui abbiamo il numero 45 pronto topolino anche qui vediamo che è una ristampa della prima serie stra paperone numero 46 qui vediamo la scritta moderna qui vediamo la scritta vecchia però strano proseguiamo ancora con paperone 80 numero 47 questo è un po rovinatino in gobertina però alla fine ci sta comunque molto preponderanti i paperi possiamo vedere ecco e adesso abbiamo topolino eroe numero 48 comunque sono anche belli da vedere in costina tutti belli colorati questi numeri qui poi avremo ragazzi dal numero 128 si chiameranno solo i classici e non i classici di walt disney qui abbiamo paperino cocktail vediamo qui addirittura il sommario storto lo hanno stampato questa è una ristampa dicevo poi dal 186 toglieranno il titolo il titolo peculiare di ogni volumetto come possiamo vedere tipo questo paperoteca si chiameranno semplicemente i classici e basta dal 186 poi dal numero 218 al 349 le costine le varie annate ecco delle costine quindi 12 numeri perché era mensile da trimestrale poi passato bimestrale poi mensile appunto dal 218 al 349 ogni 12 numeri avremo un disegno su tutta la costina che si formerà con i 12 numeri con l'annata quindi dal 1995 se non sbaglio al 2005 quindi per 10 anni abbiamo poi il numero 51 topolino olè questo non so perché lo ah ecco questo qui l'ho imbustato ragazzi perché avevo fatto già una prova con la mia colla vediamo se non sbaglio si qui era scollato questo pezzo della costina e con questa colla che mi ha reperito mia moglie chiara che praticamente è un eve di mezzo tra la vinavil e la colla appunto normale sono riuscito a riparare varie costine quindi vedete alla fine era staccata e adesso non lo è più vediamo il sommario tra il peppo numero 9999 spettacolo e qui ragazzi le bustine sono proprio quelle dei classici Walt Disney della VR Buster ecco se volevate sapere che tipo di bustine erano inserite poi continuiamo con Paperone e la caccia ai dollari numero 52 e continuando a raccontarvi qualche aneddoto dal numero 342 in poi i classici avranno la costina fino al 349 rimarrà colorata dal 350 sia la costina che lo sfondo di ogni numero sarà di un banalissimo bianco e lì diventeranno molto anonime le copertine dei classici Disney diventeranno dei volumi sottiletta davvero brutti da poco appetibili ecco per l'acquisto per quanto mi riguarda numero 53 Paperino 7 purtroppo avrà contribuito quel design a far abbassare anche le vendite è vero che le vendite dei fumetti si sono abbassate nel corso degli anni poi numero 54 SOS Topolino e qui abbiamo però ragazzi finalmente le pubblicazioni vediamo alcuni numeri tipo alcune storie Topolino la freccia rossa potete vedere prima pubblicazione su Topolino 145 e Topolino il campionissimo su Topolino 154 di questa cosa sono molto felice perché abbiamo due storie della fascia 100 di Topolino che io non possiedo visto che ovvero forse le possiederò con i grandi classici Disney però non possiedo i Topolini originali ecco poi abbiamo il numero 55 Paper Allegria vediamo anche qui la pubblicazione abbiamo fascia 300 400 bello bello molto bello però poi arriviamo a un tasto dolente che ve lo devo dire speriamo di avere il numero numero 56 ecco qui sempre il sommario con le pubblicazioni tutti fascia 300 spettacolo spettacolo questo volumetto vediamo vediamo dovrei avere numero 57 io Topolino questo è una ristampa qui ecco fascia 300 400 molto molto bello ed eccolo qua Paperino Eroe ragazzi adesso stando al paper sera da questo numero hanno tolto le frame story e se è così è davvero un peccato vediamo subito Paperino Eroe vediamo il sommario prime pubblicazioni addirittura una storia del Topolino 500 e poi abbiamo varie fasce ecco quindi queste storie le possiedo tutte perché io il 500 di Topolino lo possiedo e poi li possiedo tutti quanti comunque ragazzi ebbene si Paper sera ha ragione qui sono scomparse le tavole di raccordo se noi andiamo alla fine della storia vediamo la prima storia finisce no non è scritto nemmeno la pagina vediamo ecco qua Paperino e l'aria insetticida dal numero 58 confermo scompaiono le tavole di raccordo però è anche vero che fino al 67 sono state ristampate i numeri dispari quindi se noi adesso andiamo a vedere il 59 che sarebbe il fantastiliardo teoricamente dovremo ritrovare le frame story spero qua abbiamo numeri storie prese da tutti i numeri della fascia 400 ah meno male ragazzi vedete quindi dal prologo qui abbiamo come potete vedere le tavole di raccordo quindi per chi volesse collezionare come me questi numeri per le tavole di raccordo a questo punto bisognerebbe continuare a comprare fino al 67 solo i numeri dispari quindi quindi non comprare più dal 58 in poi cosa che però io già alla fine possiedo io infatti volevo fermarmi fino al 100 ecco di questa serie e poi al massimo vedere di recuperare i 38 numeri della prima serie con le storie diverse qui andiamo a vedere il numero topolino express numero 60 abbiamo un bel un bel sommario qui molte storie però ecco possiamo vedere come anche qui manchi la la frame story qui vediamo il numero 61 paperino natale e qui abbiamo il prologo fortunatamente qui possiamo vedere che possiamo anche notare che nei numeri pari vengono selezionate storie tra virgolette più recenti rispetto all'epoca di stampa mentre siccome gli altri sono ristampe voi dite stai dicendo l'ovvio è vero nei numeri dispari ci sono storie più vecchie questa è un'altra cosa da da valutare se volete acquistare questi numeri dei classici disney proseguiamo col numero 62 topolino mystery quindi questo sicuramente non avrà il prologo e infatti e qui abbiamo numeri possiamo vedere un po' misti fascia 400 600 400 700 comunque ancora meritevoli proseguiamo ancora con il numero 66 paperone grande capo e qui pure manca il prologo e adesso ragazzi topolino estate eccolo qui che è l'ultimo numero a ristampare sulle le pagine appunto dei classici disney sui numeri dispari le ristampe della prima serie e troviamo ancora il prologo quindi adesso si presume che sia il numero 60 68 ovviamente perché era già un numero pari non presenterà ridi paperino il prologo possiamo vedere e quindi a questo punto anche il 69 69 eccolo qua topolino superstar se noi lo andiamo ad aprire andiamo a vedere che anche qui manca il prologo e sono inedite tutte diciamo le pubblicazioni ovvero vabbè le storie sono ristampate ovviamente però tutti i numeri sono inediti paperone boss dei boss numero 70 comunque dai ragazzi ne ho abbastanza ne ho recuperati grazie a a questo lotto paperino factotum numero 71 tanto così vi faccio vedere giusto gli indici se dovessero interessarvi paperino topolino festival scusate qui abbiamo numeri della fascia 300 quindi nonostante sia un numero recente ecco tra virgolette numero 74 strato polino quindi adesso vi dovrò fare una lista per vedere farmi una mancolista ecco così per le prossime fire saprò cosa andare a raccattare il fantastico paperino qui abbiamo numero 76 super paperino con questo vestito stile super pippo molto carino qui vediamo che sono storie tratte ecco faccia 600 700 quindi sì per avere giusto una collezione che mi garbi per avere una numerazione ideale ho da rifermarmi al 100 oppure mi fermeri proprio qua e recuperare direttamente i 38 numeri con le tavole di raccordo che mi mancano ecco qui 77 proseguiamo ancora mancano gli ultimi numeri paperone story numero 78 sempre fascia 600 e 700 alcuni della fascia 900 paperino ferioso numero 79 bello cicciotto fascia 1900 quindi quello era paperino ferioso poi abbiamo paperino festoso da 79 andiamo direttamente all'85 quindi qua mi mancano un po' di numeri però qui vediamo storie prese molte dalla fascia 400 e 500 poi abbiamo numero 86 paperone l'eccezionale eccezionale veramente fascia 700 possiamo dire 500 600 600 600 no 500 400 900 proseguiamo con gli ultimi due numeri ragazzi numero 87 paperino dynasty con storie molto molto vecchie queste fascia 300 500 400 ci sta ultimo numero numero 88 pippo yuk bellissima questa copertina davvero molto molto bella e vi voglio dire anche che le copertine erano disegnate questo sempre grazie all'articolo del paper sera da Giancarlo Gatti fino al numero 11 tranne il numero 9 che è stato fatto da Marco Rota e dal 13 con l'eccezione i numeri 17 25 47 51 53 55 61 la copertina sarà quella della prima edizione del volumetto ovviamente per i numeri dispari mentre per i numeri pari le copertine saranno sempre disegnate da Giancarlo Gatti salvo alternarsi con Marco Rota in alcune uscite mentre la frame story sarà disegnata principalmente dalla coppia dal masso perego davvero molto molto interessante ragazzi non sono state ristampati alcuni numeri della prima serie relativi ai olimpiadi perché avevano anche degli articoli e quindi non non le hanno ristampate però voglio mostrarvi adesso anche questi altri numeri che in realtà possedevo già da diverso tempo giusto per vedere se ho qualche doppio a questo punto quindi togliamo via Pippo Yuck quindi ragazzi sono finiti adesso i recuperi dell'otto l'otto che ho pagato se non sbaglio meno di 60 euro e sono comunque una settantina di numeri e vi faccio vedere il numero 37 paperineide e questo qui è un numero ovviamente della seconda serie possiamo vedere perché c'è scritto i classici di Walt Disney questo l'ho recuperato in un mercatino possiamo vedere che però non l'ho pagato così ho pagato mi manca ragazzi mi mancava infatti qui abbiamo il 36 e il 38 ottima cosa poi abbiamo il trionfo di paperinik e questo ragazzi questo è un bellissimo numero purtroppo anche qui rovinato dall'etichetta però questo è un numero della prima serie il numero 63 della prima serie ed era un supplemento ad almanacco topolino 225 questo è davvero una grande grande cosa quindi numero della prima serie e lo lasciamo qui quindi lo metterò prima degli altri qui abbiamo ragazzi il numero 1 della seconda serie le grandi parodie che in questo lotto mi manca diciamo che è un po' rovinatino però abbiamo qui l'inferno di topolino e dottor paperus e paperin meschino forse manca una pagina però ragazzi forse manca una pagina qui abbiamo l'84 che pure mi mancava l'extra temporale fortunatamente qui abbiamo il numero 78 ecco questo qui lo possiedo già quindi al massimo ecco lo proverò a vendere vediamo non lo so a regalare poi abbiamo il 75 che pure possiedo già adesso vedrò di tenermi la versione migliore il 73 ecco il 73 mi mancava paperone 83 tutto a colori addirittura vediamo e si ragazzi questo numero ha storie tutte a colori e poi il 72 che pure possiedo già topolino festival quindi ho tre numeri doppi che comunque dovrò dare via ragazzi quindi questo era il recupero ditemi cosa ne pensate se conoscevate già questa serie dei classici disney ovviamente sappiamo che siamo arrivati fino al 500 e passa e poi è ricominciata dal numero 1 con l'avvento di bertani e con la reintroduzione delle frame story numeri che mi hanno colpito che sono davvero difficili adesso da recuperare purtroppo io sono felicissimo di averlo fatto di averli recuperati tutti perché contengono proprio l'essenza dei classici disney questi classici disney qua questi classici disney che faranno davvero una bella figura in libreria quindi prepariamo a far sloggiare i numeri di paperinic visto che ormai sono tutte ristampe delle ristampe li porterò giù in puglia i gadget mi li lascio qui ecco stoneranno un po' con i classici disney però va bene così ragazzi con questo è tutto io vi saluto e ci vediamo alla prossima ciao